Nessun passo indietro, la deputata Stefania Pezzopane ha rotto gli indugi e ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco per la coalizione del centrosinistra, candidatura di cui ha scritto sui social la Pezzopane, seguita dopo qualche minuto da Merico Di Benedetto del Passo Possibile, che dunque conferma la sua scelta di non essere della partita e di correre da solo. Sono loro quindi competitor di Pierluigi Biondi, attuale sindaco e riconfermato candidato del centrodestra alle prossime amministrative. La Pezzopane, appena guarita dal Covid, ha fidata ai social il suo messaggio scrivendo io ci sono, parlando di un centrodestra senza una strategia di sviluppo, senza un segno in sogno per le nuove generazioni. La richiesta era forte, molte erano le forze politiche che mi chiedevano di candidarmi, ci ho voluto pensare perché è una sfida complessa e perché io sto facendo una splendida carriera in Parlamento, però la città, l'Aquila, questo territorio, viene per me al primo posto e quindi voglio che questa città sia più aperta, più libera, più partecipata, più competitiva nel sistema abruzzese nazionale e quindi mi metto a disposizione della città. Americo Di Benedetto lo aveva già detto e lo conferma, va da solo, sui social scrive che sarà l'occasione per fare un po' di chiarezza sul passato, sul presente e sul futuro. Ora testa bassa e pedalare, ha scritto. Di Benedetto ha spiegato che stanno finendo le liste ma non c'è nessun accordo con il centrosinistra, neanche per un eventuale ballottaggio al momento, al quale non vuole pensare. La pezzopane in merito risponde secca. Avremmo potuto lavorare tutti insieme, che ci sarebbe stata l'opportunità di fare le primarie per capire quale dei candidati fosse più forte, avesse più consenso. Purtroppo Americo Di Benedetto non è stato disponibile né alle primarie né a un lavoro di sintesi della coalizione, vuole andare da solo, ne prendiamo atto. Io ho un percorso molto forte da portare avanti con una coalizione molto solida che anche a livello nazionale nelle elezioni di settembre ha riportato splendidi risultati da Milano a Roma e in tante altre città. Ho compagni e compagne di viaggio molto coraggiose e molto determinate e vado avanti col sorriso.